Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi in compagnia di Vergence di Gaming Tonight che non lo vedrete ma lo sentirete molto presente Sentirete la mia presenza, stronzi Io dovrò censurare queste cose Oggi grazie a Magic Corner andremo ad aprire un box di vortice fiammeggiante che spero mi porti abbastanza bene perché c'è qualche Starlight e qualche cartina molto interessante dentro Quindi se non avete ancora acquistato questo box potete acquistarlo sul loro sito che trovate qua sotto in descrizione con il codice sconto CAPPELLO10P per poter acquistare al 10% di sconto tutti i prodotti a tema Yugi Adesso andiamo ad aprire Allora, andiamo ad aprire Cosa cerchi la porta dentro? Eh? Cosa cerchi la porta dentro? Cosa cerco? Allora, c'è la pot che può essere interessante la pod Starlight che è ancora più interessante Poi vabbè, c'è la fusione Hedlitch che è simpatica, eh? È onesta, sì E quel link del mondo sotterraneo Cioè, quanto è bello? Una cosa del genere Quanto è bella? Non si commenta No, questa Mamma mia Ragazzi È un anno e mezzo che non apro un box Da pugno dei congeni E sinceramente sono abbastanza emozionato È perfetto Adesso questo va fino in collezione La scatola Comunque, ragazzi Vi ricordo come sempre Il codice sconto, eh? Visto? Il codice sconto è importante Usatelo Perché, comunque Ragazzi Pagarlo 10% in meno Cioè, non è che fa schifo a qualcuno Tu vuoi pagare la prezzo Visto? Neanche lui vuole pagare la prezzo piena Mai Mai aperto un main set Allora Allora No, lasciamola dentro le buste Allora Ma fai una bella cosa Ogni busta Metti la foile in fondo Devi considerare Le ultime quattro carte Ne metti davanti Le ultime quattro E così la foile sarà sempre l'ultima Allora Questo faccio finta Di non aver visto niente Allora Truppe di rinforzo dell'esercito Eesemplare S e forza Syncrotrasmissione Supremazia Vabbè, dai Questa è Ma quanto è bella questa No, è fantastica Dopo me la leggo Springer, ok Oh, dai ho armato livello tre Bellissimo Dai ho armato livello tre caruccio Che poi il mazzo Me lo vorrei montare Cioè Boostare anche il Senti Allora Le ultime quattro Le mettiamo in fondo No, le mettiamo davanti E vediamo Scalinata Verso il favoloso Reame Listo Forse c'è Ampliamo la lore Dei favolosi Con le carte nuove Sì, decisamente Roccia di guerra Orpis Eesemplare S e forza Truppe di rinforzo dell'esercito Un altro favoloso L'entrapto Fulmine drago armato Anche questo a me può servire Le gallinelle Dovrebbe essere La magia Eldritch Sette città della terra dorata Sì Magia Eldritch Beh, meglio di niente Devuta Ce n'erano altre Carine Però vabbè C'è il drago armato Di 07 Se non sbaglio Eh, sì Volevo quello Vabbè, vabbè Il termone trifasico Quello Il loro target Per voi Non Non ho visto E' un posto che vuole Un link Un XS E un secret Per essere evocato Mi sa che non l'ho visto Vabbè Mi la sto già spoilerata Favolosa Ah, carino comunque Peccato Secret Mi sa che era tanta roba Sì, vabbè Vabbè Oddio Un'altra secret buttata No, no, però Diciamo che come artwork Non è male No, se qua sbusto Tre secret Posso Posso scegliere Allora Un'altra scalinata Eh, mi sa che mi sono spoilerato La secret Non so se secret ultra Vabbè Reepilogo O Reep Sì Reep 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 No No, non è magia È mostro Un altro drago armato La magia Gallinelle Drago armato Livello 10 Drago armato livello 10 Secret, giusto? Sì È tanta roba, eh Prima edizione Drago armato livello 10 È figo? Eh, lo so, lo so Però carino Bello Mi piace Poi Apriamo Un'altra Allora Uno Due Tre E quattro Eh, sì Ho fatto il trick Devevo sbagliato Triplicata Kitty Dai, carino Bello come Come archetipo Non è male Mi piace un sacco Poi, vabbè Le solite comuni Sì, le solite Allora Prossimo Dai Tanto Ce n'è Due dei secret Nei set Sì, due Due secret E Cinque ultra Sono sbagliato Sì Allora Quattro Ok Respiro Acclamazione Drago tempesta Furiosa Replica Riepilogo Mech Rira scoperta Questa Carina Che mi interessava Anoyaki Logjama Bellissimo No, a me fa schifo Ma va bene No, è bellissimo Raga, è bellissimo Ah, ok Avevo visto fusione Pensavo fosse l'Eldrich Mamma mia Che due alba Onerosis Va bene Dai Adesso Big fail E una sola secret Sinceramente Non vorrei Gustare Mono Secret Allora Uno Due Tre E quattro Vabbè Truppe Scalinata Respiro Acclamazione Sinco Trasmissione Cavaliere Drago Grazzata Mecca Le arciere E osservanza Springans Comunque Comunque ancora niente Cioè stanno usciti Sì Però Diciamo che In un box Non vorrei Una secret E una ultra No Ovviamente Però Poca l'ora Due Tre E quattro Allora Richiamo Cancello Cannone Tentativo In tilt Cosa che fa? Vabbè Leggo dopo Incontro Vento strega Lo giama Scontro finale E Caduceo Ma Caduceo Non era già uscito? No È un Conceler Nuovo Che è stato È stato Inunciato Qualche mese fa Ed è uscito Adesso In mezzo In Vortex Ed è fortissimo No no Però Mi sembrava Ce ne fosse un altro Che si chiamasse Caduceo Che era uscito D'Arsenale Buono mi ricordo Se mesce Se mesce La prima Fortuna era L'ultima L'ultima La smentata L'ho smentata Vabbè Comune Uno Due Tre Oh La prima è sempre la truppa Fusione Supremazia Vento strega Il favoloso Nebrois Ecco guarda È la secret Fusione Me lo sento C'ho due fusioni in mano Strind Ah no Parametalfosis Carina quella Però Cioè Metano così Che cazzo Non gioca più Vabbè Dai Adesso non Ci sarà qualcuno Ma vabbè Dai No no Io non voglio Guarda Penso che l'unica Fusione L'unica carta Che non voglio Secret È la fusione Guarda C'è Quel fighissimo Drago armato Argento Non mi ricordo Si chiama Vento aureo Qualcosa del genere È Uno Due Tre Quattro Genesi Dogmatica Esplosione Bastone Supremazia Duplice Parametalfosis Sì vabbè Pesalmetalfosi Amalgam Vicenza Bug Ah carino La nuova Virtual World Oroime Sì Ho capito Sì sì No Peccato super Sempre quello No almeno così Il mazzo Non costa sempre di più Allora Uno Vabbè Ho sbagliato il trick Di nuovo Materiattore Gigaboros Carino Mi sembra tipo Gli artwork vecchi È abbastanza Mostruosa Sì Materiattore È un archetipo Mi pare È un archetipo Di Pseuro Gialloni Perché È vicino Sui posti Normali Buon Da testa No almeno Deleggi gli effetti Le carte Dai dai Adesso Vorrei che tipo La secret Tipo fosse Ultimo pacco Almeno così Hai Fino alla fine Allora Rituale Drago Tentativo In tilt Ritorno Genesi Gallinelle Alcere È uscita La secret Ok Vabbè Spring guns Testa di punta S forza Ah ok È la magia Terreno Sì 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 Ma carina Però Diciamo che puntavamo È una delle più forti Di Esforce Sì No no Questo sì Però C'è tipo Dopo le due secret C'è la possibilità Di trovare anche La prismatica Sì C'è ancora la possibilità Di trovare la prismatica E vabbè Ci sono rimaste Le volte Sì Sì Dai allora Dai poi Non posso oscura Ogni Pack opening Cioè Ho sbustato L'altra volta Il Drago Posso pure Ritenermi soddisfatto Saga antichi Guerrieri Cannone Scalinata Ripilogo Giglop e Gigatuolo Ok Blitz Drago armato Favoloso Print Ah bestia sacra Hyperton Bestia albero sacro Poi Poi dai Ripichiamo Spring guns A me mi dispiace Che Warrock È tutto comune Mi sembra Sì Pochissima No C'è La terreno È secret Poi ci sono due Un Tra il resto Dove le tappate Esemplare S forza Regolatore Scontro finale S forza Mech La scorta Vabbè Gallinella Parametalfosi E sempre Stessa bestia albero sacro Dai dai Allora Allora È sempre super No Dovrebbe essere Un No Ah peccato No vabbè A sto punto Spero di trovare Il drago armato Livello Livello 5 Beh sì Comunque destino Me lo devo montare Perché ho sbustato pure il 10 Eh Quasi quasi Rituale Su quel 7 ti manca Eh Rituale drago corazza Orpis Scalinata Ritorno Blitz drago armato Incontro Giamma rosa Cavaliere Ah Vento strega Campanella del freddo Ok Quella è molto simpatica Di vento strega Allora Sono contento Poteva andare a me molto peggio Allora Allora Skyler Richiamo Springans Favoloso Springans Arcere fatato Un altro Springans Cavaliere E un altro drago armato Livello 3 Quindi c'è il set Perfetto Sì sì No almeno questo Guarda Esplosione Cancello mondo virtuale Orpis Drago tempesta furiosa Gallinelli Blitz Giclope Eh sì Il metal folly Sbasta Mi rinuncio Ad il nome Grande mara di sabbia Gold Gold Sì Gold Sì sì Io che non mi italiano Faccio una fatica assurda Allora 4 In fondo Rituale drago corazza Esempia resse forza Richiamo Springans Bastione di sperazione Springans Rocky Cavaliere drago corazza Vabbè Il metal folly Vento strega E un altro Kitty Kit Allora Sono rimaste 4 buste E devono uscire ancora Sì ma devono uscire ancora le ultra Ne sono uscite due Non dico la Dei trovare la prismatica Però almeno Dei trovare L'ultra che mi manca Il riepilogo specchio Truppe di rinforzo Il favoloso tradimento Marcosia O Giamma rosa Fulmini drago armato Vento strega E osservazione Springans Sì Eh no Adesso mancano le ultime 4 Allora Cannone Ordalia Drago tempesta furiosa Fulmini drago armato Il favoloso tradimento Orciere fatato Sì Landtrap S forza Springans E il sincro Vento strega Carino Il sincro vento strega Trovato Sì No quello ultra Ok Ah quello ultra Campanella di diamante Ok Sì carina Cioè è tutto molto Normale Niente di eccezionale Ah dai dai Saga antichi guerrieri Ordalia Regolatore Sincro trasmettitore Intro Incontro trigi Vabbè Sì Metal Pholis Ojama Sì questo Ehm O'Neris Carino O'Neiros Sì Sì O'Neiros Spettio dei sogni Sì Eh allora è bello Sbustare un botto Comunque No aspetta Già il fatto che abbia trovato Il dragon matto Mi ritengo una persona Felice Perché sinceramente Lo volevo Rituale drago corazza Respiro Skyler Replica pend Un favoloso Abank Springans Neir Springans Oh il dragon matto Livello 10 bianco Questo è carino Sì sì No me devo montare Per forza Dragon matto Tutte lo sbustate Sì Adesso l'ultima busta Prismatica E Esplodo Esplodo Sì No 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 Ho sbustato tutti i dragon mati Adesso Dragon matto Livello 10 Prismatico No Tengo tutto Aspetta Mi sbaglio il trick Tentativo in tilt Respiro di acclamazione Saga antichi guerrieri Genesi No non è È super L'ho vista Fulmino di drago armato Parametalfodis Rind Bug Grande mare di sabbia Togliamo queste migliaia di pacchetti Che stanno qua sopra E fammo un recap di quello che abbiamo sbustato Allora ragazzi Recappino di quello che abbiamo trovato Un drago armato livello 10 Che È lì No È la scritta centrale È la versione bianca È la versione normale Secret Carino Che non so male Poi il Il sincro vento strega E la vento strega campanella del freddo Anche quelle Non so malaccio Poi Sette città della terra dorata Vabbè Non ce le facevo niente S forza neanche Però comunque Tutto fa brodo Ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto Vi ricordo come sempre Che qua sotto in descrizione Potete trovare Il sito di Magic Corner Che gentilmente Sta sponsorizzando questo canale Quindi Se utilizzate sul loro sito Il codice sconto Cappello 10p Potete acquistare Qualsiasi prodotto A tema Yugi Quindi ragazzi Statemi easy E noi ci rivediamo Settimana prossima Con la dopo Non lo so Ma sicuramente Con un prossimo video Ciao a tutti